Bene, allora iniziamo. Grazie a tutti. Io cerco di rubare meno tempo possibile a Warren Mosler e Paolo Barnard. Oggi è la seconda tappa del MMT Tour in tutta Italia, saranno 13 tappe. Ieri la tappa era a Calabria, oggi qui, domani in Sicilia e poi praticamente risalire tutta l'Italia fino all'ultima tappa che sarà a Cantù. Lascio subito la parola a Paolo Barnard che inizia a introdurre le cose di cui parleremo oggi, che sono i crimini contro l'umanità, che è l'austerità nell'eurozona e le possibili soluzioni che la MMT spiega e propone. Paolo. Ok, un sacco di gente, adesso racconta una barzelletta, dai, così. La barzelletta è che Mario Draghi ha fatto due cose ultimamente. No, questo veramente credo che sia l'uomo più criminalmente deficiente di tutta la storia europea. No, tutti e due. Criminalmente deficiente di tutta la storia europea. Allora ha pensato bene di vantarsi a una conferenza stampa di due o tre giorni fa del fatto di aver ottenuto un grandissimo successo in Europa. Dice, io ho impedito che l'Europa crollasse in uno stato di deflazione economica. Siamo nel mezzo della settima peste nera dell'economia, la più grande crisi economica nella storia europea del dopoguerra, di tutto il dopoguerra. E lui quello che ha detto sostanzialmente è, non ho curato la peste, come ho scritto in un mio recente intervento, non ho curato la peste, però ho impedito che venisse sterminata l'intera popolazione europea. Dico grazie, stanno morendo milioni di persone, comunque ti ringraziamo per il risultato. La seconda cosa che ha detto è stata che invece il progetto di fare in modo che le aziende italiane, i lavoratori italiani, avessero accesso a un credito bancario a tassi decenti, a tassi umani, beh, quello era un progetto a lungo termine. Allora uno si chiede, un tizio del genere, che è l'altimone dello Stato europeo di fatto, perché la Banca Centrale Europea oggi è lo Stato di fatto, e che non si preoccupa, mettendolo come progetto a lungo termine, della cosa più importante di tutta l'economia, cioè creare lavoro, creare economia, creare produzione, non se ne preoccupa, lo mette come un progetto distante, beh, sì, vedremo a lungo termine. Cioè questo è uno che, come ho detto in questo articoletto che ho scritto, bisognerebbe che qualcuno andasse a caccia di piccioni davanti all'Eurotower e sbagliasse a tirarlo e pigliasse lui invece che i piccioni. Scusate se questa è un'affermazione un po' forte, ma tutto sommato a questo punto, considerando che razze di crimini sociali vengono perpetrate nel nome dell'idiozia criminale di questo uomo, sarebbe veramente il minimo. E l'altra cretinata che ha fatto, me l'ha rivelata Warren proprio questa mattina, ha rilasciato un'intervista a un giornale tedesco dicendo che la sua famosa promessa di fare qualsiasi cosa era necessario per garantire la stabilità dell'euro e il non default delle nazioni dell'euro, beh, in fondo non era poi questa gran promessa, in fondo no no ma ci sono dei limiti. Sostanzialmente quello che ha detto, per chi non capisce questo linguaggio di ordine finanziario, ha detto ai mercati, che sono oggi quelli che ci danno il denaro per vivere, vivere male come viviamo ma vivere, avete mercati, prendete su, telate una fuga di quelle proprio importanti perché io qui non garantisco un accidente di niente, un genio, un genio, un assoluto genio questo uomo. Ok, allora, noi facciamo questo tour nazionale perché siamo consapevoli che dietro ai numeri, ai titoli dei giornali, dietro a tutto quello che si discute di economia, ci stanno delle tragedie umane ormai ormai di proporzioni inimmaginabili. Guardate, io lo dico spesso quando parlo in pubblico, non sono un giornalista fighetto che vive la vita al telefonino guardando i monitor dei computer, io vivo a contatto con le persone reali, con persone che sono oggi ai limiti della disperazione per la devastazione economica che sta distruggendo le loro famiglie, il futuro dei loro figli, persone anche, sono vicinissime, persone anche molto ammalate, che si trovano in condizioni abberranti negli istituti sanitari per essere i migliori d'Italia, come per esempio nella mia città a Bologna, situazioni agghiaccianti, dove vediamo nei corridoi degli ospedali persone che moriranno con anni di anticipo perché sono venute a mancare le terapie essenziali ormai, tagliano chirurghi come i chirurghi tagliano gli appendici, veramente questa è la situazione dell'ospedale Bellare di Bologna, 8 chirurghi tagliati negli ultimi due mesi, vuol dire che ci sono persone che devono essere operate di un tumore o di patologie importanti che vedranno l'operazione rimandata di 8, 9, 10 mesi che sono quelli che li uccideranno, cioè la gente sta soffrendo e morendo veramente per questa crisi economica, per non parlare dei suicidi, per non parlare del fatto che oggi tenendoci tanto sacrificio, erodendo i risparmi di famiglia, questo con una laurea in storia, con una laurea in biologia, quello che è, o scienze politiche, lavora a un call center per 600 euro e non potrà mai sposarsi, addio, ciao, il matrimonio non se ne parla neanche, eccetera, eccetera. Quindi parliamo veramente di sofferenze reali, facciamo un tour che vuole dire le cose come stanno, facciamo arricciare il naso a un sacco di gente, ma noi diciamo le cose come stanno, le austerità europee, il dogma della riduzione del deficit sono crimini contro l'umanità, ok? Non sono numerini su dei computer, sono crimini contro l'umanità. Allora adesso io per introdurre quello che dice, che dirà Warren Mosler, per chi non ha, per chi qua dentro non ha veramente ancora seguito la Mosler di Economics, Modern Money Theory, bisogna venire sgrossati di alcuni concetti chiave. L'economia è un po' come se qualcuno si sentisse dire che fumare fa bene, perché quando dice a una persona ignara di qualsiasi cosa che il deficit si deve espandere, non ridurre, è come dire a una persona comune che fumare gli fa bene. La persona comune rimane scioccata, ma come? No, no, è impossibile che il deficit deve crescere, il deficit deve calare. No, 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 noi diciamo il deficit deve crescere. Allora bisogna che noi informiamo le persone prima di alcuni concetti chiave. Il primo concetto chiave da sgrossare è questo, esiste la parola debito pubblico ed è una parola fra le più sbagliate mai pensate in economia. Il debito non è pubblico, il debito non è dei cittadini e delle famiglie, non è delle aziende, non è di tutti. Il debito è una emissione di moneta, del monopolista della moneta, dello Stato, che si trasforma al centesimo nel credito del pubblico, della gente, ok? Delle aziende, dei risparmiatori, ok? Questo è il primo concetto, ci hanno tutti ficati in testa che c'è il debito pubblico. Lo Stato ha duemila e rotti miliardi di debito pubblico, siamo tutti lì a dire oddio, allora vuol dire che io, i miei figli, i miei nipoti, i figli dei miei nipoti avremo tutti sulle spalle questo debito pubblico. No, è esattamente il contrario, abbiamo tutti in tasca un credito. Questa è la prima cosa in assoluto da chiarire. La seconda cosa da chiarire in assoluto, importantissima, è che la moneta che noi abbiamo nelle nostre tasche, prima di arrivare nelle nostre tasche, è stata creata da qualcuno. Nessuno di noi può creare la moneta, nessun cittadino, insegnante, infermiere, nessun imprenditore può creare la moneta. La moneta la può creare solo un'entità, lo Stato, il monopolista della moneta. Quindi è logico pensare che chiunque nella società che non sia lo Stato, cioè tutti noi cittadini, aziende, lavori, professioni, abbiamo moneta in tasca, ce l'abbiamo perché qualcun altro lo Stato l'ha creata. Allora cosa succede a questo punto? Un altro punto di logica semplice è pensare che se lo Stato crea 100 soldi e poi ci tassa 100 soldi, cosa ci rimane a noi? Non ci rimane niente, nessun bene finanziario netto, al netto. Questo è il pareggio di bilancio. Allora io mi chiedo, abbiamo messo in costituzione questa sciocchezza contabile. Noi non possiamo produrre la moneta, solo il monopolista della moneta può produrre moneta. Allora se lui ce ne dà 100 e ce ne toglie 100, a noi cosa rimane? Niente, d'accordo? Questo è fondamentale da capire. Il pareggio di bilancio è una idiozia contabile, ma se fosse solo un'idiozia andrebbe bene, è anche un crimine, perché ci lascia a secco, non ci permette di vivere e non ci permette di risparmiare e non ci permette quindi di avere una vita prospera. Ci permette solo di pagare le tasse. Cioè il governo emette il denaro che ci serve per pagare le tasse. Basta. Questo è il pareggio di bilancio. Allora non va bene questo. Noi della Mosle Economics diciamo che il governo ha il dovere, perché è il monopolista della moneta, è il re che ha in mano la borsa, di darci soldi. Uno per pagare le tasse. Va bene. 100 soldi e 100 soldi mi tassi, ma me ne devi dare degli altri per vivere e per risparmiare. Se no sei un tiranno. D'accordo? Se no veramente sei un tiranno. Perché allora se non vuoi essere tiranno, tu mi dai 100 soldi, mi tassi 100 soldi e poi mi permetti di stampare il mio denaro. Ok? Ma siccome questo non è possibile, perché lo Stato è il monopolista del denaro, ok? Allora lo Stato deve al dovere, lo Stato ha il dovere di darmi il denaro per pagare le tasse, per vivere e per risparmiare. Quindi lo Stato deve spendere di più di quello che tassa. Quindi lo Stato deve emettere un deficit. E se il deficit è troppo piccolo, è un guaio per tutti, è un guaio sociale catastrofico. Warren Mosler dopo spiegherà la correlazione che c'è diretta e precisa fra un deficit troppo piccolo e il più grande male sociale esistente che è la disoccupazione. Un'altra cosa da capire, un altro capitolo fondamentale da ficarsi in testa per capire meglio il discorso di Warren Mosler è il capitolo che riguarda la creazione di ricchezza da parte del settore privato. Il settore privato, cioè che non è lo Stato, il settore fatto da cittadini, professioni, aziende eccetera può certamente creare ricchezza, d'accordo? Ma non è una ricchezza al netto, non è mai un bene finanziario al netto. Cioè il denaro nel settore privato tende a circolare, c'è qualcuno che guadagna, c'è qualcuno che spende, c'è qualcuno che risparmia e quindi sottrae il denaro della circolazione, d'accordo? Tutto questo può anche creare, tutto questo può anche creare dei pocket, delle sacche di ricchezza, ma non è mai una ricchezza finanziaria al netto. Allora è necessario che ci sia sempre la spesa a deficit dello Stato per garantire il benessere di tutti i settori di cittadini e aziende. Allora, questo lo dico perché l'economia classica, quella che ci governa, quella che ci ha portato all'austerità predica invece il fatto che se si lascia tutto in mano al settore privato diventeremo tutti i più ricchi. Questa è una balla, anche perché è una bugia, anche perché il settore privato assume solo se gli conviene, solo se ha una convenienza. E questo vuol dire che questo non può garantire la piena occupazione. Per garantire la piena occupazione ci vuole per prima cosa l'intervento del settore, del monopolista della moneta, del settore Stato. Ok, altro punto, altro punto importante, il discorso delle tasse. Lo accenno appena appena perché dopo Warren Mosel farà degli esempi che sono estremamente efficaci per farvelo capire. Però è un altro punto di logica che se c'è un monopolista della moneta che è lo Stato, che è colui che la crea. Spiegatemi voi come fa a ritirare il denaro in tasse prima di avervelo dato. È impossibile. È impossibile. Questo è il paradigma che ci hanno ficcato in testa, che le tasse dei cittadini sono essenziali per pagare la spesa pubblica. è una bugia, è una illogicità, è impossibile. La spesa pubblica deve venire prima e dopo semmai lo Stato tassa. Questo ha delle implicazioni importantissime, soprattutto su una cosa, che una delle maggiori punizioni, le più sadiche punizioni delle austerità europee, che è questo aumento vertiginoso delle tasse, ci viene fatto ingoiare anche perché ci ricattano col fatto che se non paghiamo queste tasse esorbitanti dell'austerità, lo Stato e i servizi pubblici non possono funzionare. Non vero. Mosel, Warren approfondirà questa cosa dopo. Un'ultima cosa, e questa appartiene puramente al mio intervento, guardate che le condizioni di disastro economico e sociale in cui ci hanno ficcato oggi non solo sono state possibili perché hanno trapanato nel cervello di tutti i cittadini questi paradigmi falsi che abbiamo appena toccato. Il debito pubblico, il debito dei figli e dei nipoti, l'inflazione è il pericolo principale per l'economia e non la disoccupazione. Le tasse servono a finanziare lo Stato, il pareggio di bilancio risana, non si sa che cosa, ma risana. Tutte queste cose ce ne hanno trappanato in testa, ma non c'è solo questo. C'è anche il fatto che ci hanno convinti che noi italiani siamo stati un popolo di spendaccioni, siamo stati un popolo di incoscienti che hanno vissuto sopra i propri mezzi. Questa è una frase che sentiamo in televisione, adesso sui giornali, l'abbiamo sentita per 3, 4, 5 anni, martellata a tutti i momenti. Certo, gli economisti pomparoni che andavano da Bruno Vespolo, da Santoro a dire, eh beh, abbiamo vissuto sopra i nostri mezzi e adesso giustamente paghiamo il prezzo. Ok? E allora ci vogliono le austerità. Il paradigma reale è esattamente il contrario. Prima di tutto l'Italia non ha mai vissuto al di sopra dei propri mezzi. Soprattutto negli anni che contano, che sono quelli dove siamo accusati di aver creato il mega debito pubblico. E allora ecco che i dati della ragioneria dello Stato italiana, ok, questi sono i dati della ragioneria dello Stato italiano, ci dimostrano come sia assolutamente falso che l'Italia, nella spesa delle amministrazioni pubbliche, la spesa pubblica in percentuale di supporto interno lordo, fosse questo paese spendacione. Lo vedete molto chiaramente, la linea verdina è l'Italia, ok? La linea che ci interessa a noi è la media dei paesi europei, che è quella violetto. Dagli anni, prima degli anni Sessanta, da arrivare agli anni Novanta e alla metà degli anni Novanta, anzi praticamente fino al 2010, come vedete l'Italia non solo per un lunghissimo periodo è stata al di sotto della media europea come spesa pubblica, non era un paese di spreconi. E poi è andato un po' sopra, ma vedete che le righe quasi combaciano. Non si tratta di un paese spendacione, selvaggiamente spendacione. Questa è una bugia che ci hanno trappalato in testa per farci accettare la giusta punizione, cioè delle austerità. Anche questa è la spesa delle amministrazioni pubbliche sul PIL, comparazione con altri paesi europei ed extraeuropei. L'Italia in grassetto e in mezzo, come vedete non si discosta mai di tantissimo dalla media europea, ma guardate la Francia e il Belgio, due nazioni che sono sempre state considerate, specialmente la Francia, più virtuose della nostra. Sono regolarmente al di sopra della spesa delle amministrazioni pubbliche italiane. E tenete conto che in quella voce amministrazioni pubbliche ci sono i fioriti d'Italia, cioè tutti i ladroni oltretutto. Quindi se poi toglievamo i ladroni, noi eravamo addirittura molto al di sotto della Francia e degli altri paesi, ma di fatto non siamo stati ladroni inclusi, non siamo stati assolutamente un paese spendacione nell'amministrazione pubblica. E anche questo è un altro grafico della ragioneria dello Stato che è molto importante. Non è vero che l'Italia della lira, soprattutto della prima repubblica, è il paese, come dice quel falsario di travaglio, che ha creato il debito pubblico spaventoso che oggi paghiamo e ci meritiamo la giusta punizione. Non è assolutamente vero. Arriviamo a Tangentopoli, con la fine della prima repubblica, che l'Italia ha un debito pubblico che è al 100% del PIL o di poco al di sopra del 100% del PIL, che oggi sarebbe addirittura un sogno. Qualcosa che non si discosta di molto dal debito pubblico pubblico della Germania o della Francia? L'impennata è stata dopo del debito pubblico italiano. Altre bugie che ci hanno ficato in testa. E guardate questa dichiarazione, questa cosa che ho tratto da Economia e Finanza della Repubblica del 13 gennaio del 2012, dell'anno scorso, poco più di un anno fa. Guardate cosa c'era scritto. A metà degli anni 90 l'Italia appariva a giudizio delle agenzie di rating, che oggi hanno tagliato i loro giudizi, che oggi ci puniscono, come una delle economie leader dell'Unione Europea. Avevamo una crescita che era al di sopra del 2%, oggi siamo meno 2,8%. L'agenzia di rating Standard & Poor's appressava il tasso di inflazione italiano moderato, moderato, 5,8%, che è di quasi 3 punti superiore al tasso di inflazione di oggi. Quindi allora l'Italia virtuosa, paese, leader dell'economia europea, aveva un'inflazione molto superiore da quella di oggi. E poi il disavanzo pubblico, cioè il deficit di bilancio, 9,4%, tre volte quello che è oggi, o quasi tre volte il deficit pubblico di oggi, tre volte superiore. E il 124% di debito pubblico su PIL, che è precisamente quasi al centesimo il debito pubblico che abbiamo oggi. Allora avevamo un debito pubblico praticamente identico, il deficit di bilancio che era tre volte più grosso e l'inflazione che era quasi il doppio, ma eravamo un paese leader nell'economia europea. Qual era la differenza? Non avevamo l'euro. Molto chiaro, economia e finanza della Repubblica. Altre bugie che ci hanno ficcato in testa. L'Italia della lira, l'Italia della liretta, paese stupido, paese dell'inflazione, paese dell'inflazione. Siamo il paese che deve evitare l'inflazione. Avevamo l'inflazione alta, Giannino non ha fatto altro che martellare questa cosa, ripetere, non davanti a me però, perché lo sapeva che lo sputtanava a morte. Allora questa è, questa sempre è la serie storica dell'inflazione media in Italia dal 1954 al 2010, fonte Istat. Andiamo a vedere com'era l'inflazione dell'Italia negli anni della prima Repubblica. Come vedete era un'inflazione che è sempre stata estremamente moderata, 2,4, 2,3, 4,7, 1,3 eccetera, 5%, niente di drammatico. Ovviamente cosa succede? Crisi del petrolio, guerra del Kippur, 1973, il prezzo del petrolio salta per aria a un livello inaudito e cresce l'inflazione in Italia, ma cresce come è cresciuto in tutto il mondo, non solo da noi. Però attenzione a una cosa, l'inflazione è alta, è dovuta a uno shock esterno, non è dovuta all'italietta, della liretta, di Andreotti, di Fanfani, eccetera. L'Italia nel 1980 ha il 21,2% di inflazione, un'inflazione enorme. Oggi siamo a dei livelli che oscillano dal 2,8, qualcosa del genere. Abbiamo il 21,2%, quindi secondo gli economisti classici questo è un paese che praticamente commercia banane di fatto, l'Africa praticamente. Allora vediamo questa cosa, il titolo non si vede, è il tasso di risparmio delle famiglie, una comparazione internazionale. Nel 1980 con un'inflazione al 21,2%, qual era il paese che aveva il tasso di risparmio più alto del mondo? L'Italia. Ma come? Non andavamo in giro con le carriole di banconote, della liretta, dell'italietta a comprare sigarette? Non andavamo in giro con i camion per comprarci una bicicletta? No. Gli italiani riuscivano a risparmiare il 25% del reddito familiare nell'anno della maggiore inflazione che abbiamo mai avuto nel paese. E guardiamo adesso l'Italia virtuosa dei tecnici, dei dopociampi, dei dopopado a schioppa, dopo questi criminali qua. Arriviamo al 2009 con un inflazione allo 0,8%. Questo, secondo Monti, secondo Lafornero, secondo Letta, è un paese saccomanni, è un paese virtuosissimo. E il tasso di risparmio dell'Italia del 2009 per delle famiglie, la stessa comparazione di prima, è crollato al 6,8%. Questo è un altro fantasma, quello dell'inflazione che ci hanno ficcato in testa, per convincerci ad accettare le austerità, le giuste punizioni, le riduzioni del deficit. Deficit reduction. Ultima cosa che vi faccio vedere, poi dopo lascio la parola a Warren, perché è importante che sia lui poi approfondire. Questa è un'altra cosa divertente, ma lasciamo la perdere. È questa. E questo, secondo me, è l'atto d'accusa più devastante che esista contro l'euro e l'eurozona che uno possa immaginare. I dati sono della Banca d'Italia, relazione annuale 2011. Vedete questo grafico? Non è che ci sia il titolo, non si vede, non so perché non si vede. Il titolo è la produzione industriale nei maggiori paesi dell'area euro della Banca d'Italia. È molto semplice. Qua siamo entrati nell'eurozona. Siamo all'inizio del 2000, alla fine del 2000, all'inizio del 2001. Ufficialmente, tecnicamente nel 99, praticamente nel 2002 siamo entrati e abbiamo cominciato a usare gli euro su larga scala. L'Italia è la linea marron ed era la prima potenza industriale per produzione in tutta l'Europa. E guardate divertente, divertente, chi è l'ultimo, l'asino della classe? Chi è? La Germania. Ok? Oioioi. Cos'è successo attraverso tutti gli anni dell'eurozona? Cos'è successo? Chi è il primo della classe, là in fondo? E chi è l'ultimo, il penultimo della classe? L'Italia. L'eurozona è stata creata per distruggere la competizione industriale dell'Italia che per 30 anni ha roso i talloni della Germania. E non solo ha roso i talloni della Germania, ma ha anche battuto ampiamente la Germania. E questa è un'altra prova di quello che sto dicendo. L'eurozona è un disegno franco-tedesco, timonato dalla Germania per far fuori l'Italia. Questi sono, in inglese, questi sono il saldo delle partite correnti, che sostanzialmente sono il surplus o i negativi dell'import-export. Nel 1996, quindi con la lira, l'Italia e l'Irlanda erano dei super esportatori. Ora, questo non vuol dire che per noi questo sia un buon segnale, anzi, non per complicare le cose, ma per noi dalla Mosle Economics esportare tanto non è una gran bella cosa. Ma voglio puntare il dito su un fatto. La Germania, che è una nazione che è fanatica delle esportazioni, vive solo sulle esportazioni, sostanzialmente solo sulle esportazioni. È un po' come il Giappone. Guardate la situazione com'era. L'Irlanda e l'Italia erano dei super esportatori nel 1996. La Germania ci stava nei tubi di scarico, nei tubi di scarico, letteralmente. Pensate a una nazione come la Germania che nel 1996 era in rosso con le esportazioni, mentre l'Italia aveva dei surplus che erano incredibili. Ecco perché ci hanno fatti fuori. Ci hanno fatti fuori per questo motivo. Guardate tutti gli anni dell'euro, guardateli. Avete visto cosa è successo? Ecco perché ci hanno fatto fuori. Questo è il Fondo Monetario Internazionale come fonte. Ecco la realtà. Tutti siamo andati in vacca, tutti quanti. La Germania ha vinto. E ha fatto fuori l'Italia, che era il concorrente maggiore assieme all'Irlanda, ma l'Italia in particolare, specialmente le nostre piccole e medie aziende. Ora, io voglio dire una cosa. Adesso questo è importante da dire perché presta, come si dice in inglese e tra l'altro in italiano, presta credibilità e autorevolezza al discorso che facciamo. Il fatto che l'entrata dell'Italia nell'Eurozona sarebbe stato un disastro per l'Italia, ma in questo caso per tutti i paesi della zona euro. E oggi sappiamo, contrariamente a quello che raccontano i soliti giornali bugiardi e falsari, che la Francia è ufficialmente in recessione con un tasso di disoccupazione storico altissimo. La Germania sta entrando in recessione anche la Germania. Sappiamo che i soliti tedeschi che barano, che chiedono a noi l'austerità. Pensate che la Germania che chiede a noi di non spendere neanche 60 euro di deficit di bilancio in più, ha stanziato 6,4 miliardi di euro, approvate dal Parlamento tedesco, dal Bundestag, approvate per tagliare i contributi pensionistici sugli stipendi, cioè permette agli imprenditori di respirare e ai lavoratori di mantenere i posti di lavoro. E a noi non ci fanno spendere 50 euro in più. Loro ne hanno stanziati 6,4 miliardi. La Francia, con l'acqua alla gola, perché sono dentro l'Eurozone anche loro e stanno soffrendo anche loro, ha approvato in Parlamento 20 miliardi di euro di tassi di crediti di imposta alle imprese. 20 miliardi in più. Voi chiedete a Letta di andare a Eurotower, di andare al G7, di andare alla Commissione Europea e di dire posso spendere un milione di euro per le famiglie? No! No! Ma scherziamo? No! Intanto loro barano e spendono miliardi perché sono con l'acqua alla gola anche loro. Allora, che l'euro avrebbe portato alla devastazione dell'Europa, in particolare dei paesi del sud Europa, c'era chi l'aveva detto con molto anticipo. Questo è uno studio interessantissimo e lo traduco alla frase sotto, l'abstract. Il motivo di questo studio è un sondaggio di economisti americani della Federal Reserve, del sistema della Banca Centrale Americana e di alcune università americane, quindi parliamo di gente che qualcosa capisce di economia, hanno osservato l'unificazione monetaria europea dalla pubblicazione del piano dell'or, uno dei delinquenti che si è pensato a sto disastro, nell'89, fino all'introduzione dell'euro, monete e banconote, nel gennaio del 2002. Hanno osservato il fenomeno, dall'89 al 2002, e hanno titolato il lavoro che è stato pubblicato a un convegno di San Francisco, non so se è riuscito a leggerlo, l'euro non può accadere, è una brutta idea, non durerà. Allora, questo è un lavoro che è stato fatto, pubblicato nel 2002, undici anni fa, ci avevano avvisati. Questo è un altro nome importantissimo dell'economia, si chiama Wynne Godley, questo è un grande economista all'Università di Oxford, in Inghilterra, e lui aveva rilasciato un'intervista all'Observer, giornale inglese, dove si legge che le nazioni dell'euro non solo rinunceranno la propria moneta sovrana, ma anche la loro capacità di spesa. Con l'Unione Monetaria i governi non potranno più essere finanziati dalla Banca Centrale e dovranno prendere in prestito sui mercati aperti. Questo rischia di essere troppo costoso per loro, persino impossibile. Le restrizioni di budget a cui queste nazioni si sottopongono infliggeranno una depressione economica all'Europa che essa non potrà risolvere. I giornali ci dicono che ci sarà la ripresa e poi il giorno dopo, ah no, le stime è a ribasso. Una settimana dopo ci sarà la ripresa e la settimana dopo, ah no, le stime è a ribasso. 1997. E questo è, secondo me, lo studio economico più bello che sia mai stato pubblicato in Italia negli ultimi anni. Lo potete leggere, non c'è bisogno che ve lo legga io. Bene. C'è qualcuno che è non vedente? No, no, lo dico seriamente perché non vorrei mancare di rispetto. Nessuno non vedente. Bene. A questo punto ho sgrossato la materia e abbiamo dell'anno. Mr. Mosler Economist, MMT. Warren Mosler.